Prima di annunciare i vincitori di quest'anno del Premio Imperiale, che desidero rivolgere un saluto alle illustre personalità che ci onorano della loro presenza qui oggi. Incomincio dal maestro Cecco Buonanotte, vincitore del Premio Imperiale per la scultura nel 2012. Il maestro Michelangelo Pistoletto, Premio Imperiale per la pittura del 2013, insieme alla signora Maria Pistoletto. Il ministro Hirota Sukasa, vice capo missione dell'Ambasciata del Giappone. L'ambasciatore Chiba Kira, ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede, insieme alla signora Chiba. Do ora lettura dei vincitori del Premio Imperiale per la pittura via Chelmins degli Stati Uniti. La scultura va a Olofur Eliasson, della Danimarca e Islanda, che ha vissuto in entrambi i paesi. L'architettura va per la prima volta a un architetto africano, Diabedo Francis Kere. La musica ha un famoso trombettista Wilson Marsalis e nel teatro film ha un famoso scenografo Robert Wilson. Questi sono i cinque vincitori del premio di quest'anno. Poi per quanto riguarda la borsa di studio per i giovani artisti, gli assegnatari sono stati indicati e scelti dal consigliere internazionale degli Stati Uniti, Hillary Rodman Clinton. Sono di Harlem School of the Arts e Rural Studio in Alabama. Chiedo al maestro Cecco Buonanotte se ci vuol dire un suo commento. Oltre all'importanza del premio, quel luogo ti lascia un segno. Cioè se sei premiato, stai lì nell'attenzione eccetera eccetera, è una cerimonia favolosa. Mette l'artista proprio al centro del mondo in qualche maniera, ti senti parte del mondo. Ma con umiltà guarda, con umiltà. Con umiltà, certo. Al centro del mondo proprio perché l'arte è al centro del mondo in quel momento. Certo, certo. E' l'arte che viene messa al centro del mondo. Certo, certo. E quindi con umiltà giustamente, senza presunzione, però sapendo che l'arte è un motore fondamentale per la società. E credo che questo premio sia veramente un premio del massimo livello per confermare questa bontà, questa forza, questa importanza dell'arte come dinamica proprio straordinaria. che poi tocca tutti gli ambienti, perché l'abbiamo visto anche in questa premiazione dove si toccano i paesi più diversi, le culture più diverse. La globalità. Oltre, appunto, oltre che le diverse discipline artistiche. E quindi l'arte va toccando sempre di più una società che finisce poi per interessare la politica, la pace, l'economia. Tutto, la vita. Da questo insieme di artisti in cui io ho visto un filo conduttore, cioè tutti hanno effettivamente dimostrato l'importanza, uno in particolare, del paesaggio. Cioè questo spazio in cui noi siamo tutti inclusi entra nell'espressione artistica di tutti. Grazie. Grazie. Grazie.